Sindaco, la politica. Finite le elezioni, ora bisogna guardare a Taranto e chiunque andrà al governo dovrà guardare a questa città come il primo impegno. Beh, troppe volte ci siamo ripetuti, ce ne siamo convinti ed è vero che questa città ha un ruolo essenziale per il sistema paese, per la ripartenza del mezzogiorno intero. Quindi è evidente che nessuno potrà prescindere da un dialogo costruttivo con le istituzioni e la comunità ionica. È evidente che un governo un po' più coerente con la nostra pianificazione strategica potrebbe essere un vantaggio. Lo scenario è molto complicato, molto articolato. Noi tra l'altro siamo stati giustamente critici nell'interesse del territorio con un governo, come dire, amico. Figuriamoci se temiamo di confrontarci con governi di altri colori. Presumo che con senso di responsabilità chiunque avrà il compito di governare il paese ripartirà da Taranto e ripartirà, spero, con una certa visione di quelle che sono le cose utili a questo territorio. Una cosa sono i rapporti istituzionali tra comune e regione, un'altra i rapporti politici. Cos'è cambiato? Ma vedi, in realtà io mi stupisco della sorpresa, specie dagli addetti ai lavori, dei cronisti, che invece sanno già da tempo che ci muoviamo in sintonia sugli obiettivi finali, grandi, utili ai cittadini tarantini e pugliesi. Abbiamo un metodo, certe volte, un po' diverso. Finché l'aleare collaborazione ci porta entrambi, come da nostro compito istituzionale, a fare gli interessi ai territori, io non vedo problemi. Michele Emiliano è una persona eccezionale che ha fatto tanto bene a questo territorio e continuerà a farne. Io stesso continuo a volergli un sincero affetto, voglio dire. Opposto solo una questione politica, al di là delle reazioni, credo che un po' in tutti i territori. In Italia ci sia questo, se posso dire, disappunto degli amministratori, specie del Partito Democratico, che sono obiettivamente stanchi di essere stritolati nelle dinamiche di correnti. Abbiamo bisogno di fare le cose che servono alla nostra città. Taranto prima, non possiamo pensare alle correnti, ai partiti che si stanno rivisitando giustamente in questa fase. Ora, è una fase ovviamente confusa, tribolata, ci si tornerà a confrontare su tutti i temi. Non è per forza che si debba stare nello stesso campo politico per fare delle cose buone sul territorio. Non è cambiato nulla rispetto al clima di settimane fa. Bisognava però comunicare che se sul territorio, per esempio, ci sono delle difficoltà a confrontarsi su questi aspetti strategici con il Movimento 5 Stelle, che conserva ancora una connotazione populista, e noi populisti non siamo, ci permettiamo di segnalare ai leader di partito nazionali, non soltanto ai Michele Emiliano, perché questo sta avvenendo anche nell'area renziana, per chi legge bene i fatti, e ripeto, sta avvenendo dappertutto, ci permettiamo di segnalare che prima di fare fughi in avanti con alleanze con i populisti dovremmo aprire una fase di riflessione, di coinvolgimento. E' solo questo. E allora, al lavoro per Taranto, una svolta soprattutto sulle grandi dinamiche del territorio, ilva, urbanistica, rapporto con il mare e anche con le qualità di questo territorio. Vedi, direttore, io, chi mi conosce, forse perché resto ancora fondamentalmente civico, un imprenditore, insomma, con poca esperienza politica alle spalle, sono malato del tempo. Ne abbiamo perso troppo in questa città. Io non aspetto un altro governo, non aspetto le consultazioni, non aspetto ancora mesi sui grandi dossier che servono in maniera imprescindibile a questo territorio per ripartire e io continuo a lavorare. Se qualcun altro vuole aspettare gli scenari nazionali, i governi, faccia pure. Io devo fare il sindaco di Taranto.